Corini aveva fornito qualche indizio in conferenza stampa dopo l'amichevole col Melita. Il Palermo sembra confermare la volontà di diventare grande. Dopo l'ufficializzazione della cessione di Saric ai turchi dell'Antaliaspor, vicinissimo un nuovo doppio colpo di mercato. Per il rosa-nero si tratta di una doppia operazione da Serie A. Sarebbe ormai tutto definito per l'arrivo in Sicilia di Liam Anderson e Federico Di Francesco. Il primo centrocampista dell'Empoli sbarcherà in rosa a titolo definitivo. Giocatore duttile di metà campo, il 27enne scozzese, darà una grossa mano nella zona nevralgica dove può ricoprire diversi ruoli. La conferma sulla chiusura dell'affare è arrivata anche dal tecnico dei Toscani, Paolo Zanetti, fra i primi a svelare in conferenza stampa la partenza del centrocampista. Altro gran colpo, quello riguardante l'attaccante del Lecce. Per Di Francesco il Palermo avrebbe alzato l'offerta nelle ultime ore dopo la prima proposta dei giorni scorsi. L'ultima cifra avrebbe convinto Corvino e lo stesso giocatore che era anche andato a segno in Serie A nella prima giornata di campionato contro la Lazio. Di Francesco sarà acquistato a titolo definitivo, ma rimarrà a disposizione dei giallorossi almeno per la gara contro la Fiorentina. Poi la partenza per Palermo.